Buonasera, benvenuti a Milano Favia News, questa è l'edizione Milano, i titoli. E' stata una notte di movida violenta, quell'attena trascorsa a Milano, ci sono stati due accoltellamenti in zona Navigli, l'autore dell'aggressione è un cinquantenne trasandato. Era stato accusato di aver commesso una violenza sessuale su una bambina dieci anni fa, un uomo di Magente è stato condannato a dodici anni e dovrà risarcire la vittima. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontane, è stato prosciolto perché il fatto non sussiste, con altre quattro persone dall'accusa di frode in pubbliche forniture per il caso Camici. Questa mattina Lampi e l'associazione City Angels si sono ritrovate alla loggia dei mercanti per ripulirla e dare così un forte segnale contro il degrato in cui versa da anni. Un finanziamento di 5 milioni per i tre parchi di Corsico, Giorgella, Cabassina e Resistenza, per un totale complessivo di 7 milioni con i fondi che aggiungerà il Comune. In apertura del nostro telegiornale, l'avete sentito, la cronaca è stata una notte di movida violenta, quella appena trascorsa. Sui Navigli ci sono stati due accoltellamenti, l'autore delle aggressioni è un cinquantenne. È stata una notte di sangue, quella tra giovedì e venerdì 13 maggio, in cui a Milano, sui Navigli, due ragazzi, un italiano di 28 anni e un tedesco di 27, entrambi studenti all'Università di Lipsia a Milano per una vacanza di studio, sono stati accoltellati. Secondo le prime indagini dei carabinieri, tutto sarebbe nato alle 5 di mattina nel parcheggio all'esterno di una discoteca lungo l'Alsaia Naviglio Grande. Il 28enne, che lavorava come assistente di un docente all'Università di Lipsia, stava litigando animatamente con una ragazza non ancora identificata e a lui sconosciuta, per motivi ancora non chiari, ed è a quel punto che un cinquantenne, dall'aspetto trasandato e in forte stato di alterazione, si sarebbe avvicinato al giovane per poi aggredirlo e colpirlo con una coltellata alla spalla. A quel punto il 27enne tedesco ha cercato di difendere l'amico, ma è stato a sua volta accoltellato alla schiena. Subito è stramazzato al suolo ed è stato soccorso dal 118, mentre l'italiano è riuscito ad allontanarsi verso Ripa di Porta Ticinese, inseguito per un tratto dall'aggressore e dalla donna, che però poi è riuscita a scappare. Il 28enne è stato trasportato in codice rosso al Policlinico per un'emorragia, mentre il 27enne è in codice giallo all'ospedale Humanitas. Nessuno dei due è ora in pericolo di vita. Ci spostiamo a Magenta, dove un uomo di 43 anni è stato accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina, un reato commesso 10 anni fa. Adesso dovrà scontare una pena di 12 anni. È stato condannato dalla quinta sezione del Tribunale di Milano alla pena di 12 anni, un 43enne di Magenta che dovrà anche risarcire con 80 mila euro la sua vittima, cioè una bambina di 10 anni che venne abusata ripetutamente fino all'età di 15 anni. I fatti sono accaduti 10 anni fa. Si tratta di una storia terribile avvenuta a Magenta, quando l'uomo aveva cominciato ad avvicinarsi a quella bambina in maniera sempre più insistente, a toccarla nelle parti intime, come emerge dai processi, fino ad arrivare ad avere con lei rapporti sessuali completi. Finalmente la giustizia, con la sentenza del giudice Luisa Alfonso Savoia, ha messo la parola a fine a questa vicenda, emettendo la sentenza di primo grado di condanna e di risarcimento. Oggi la vittima è una ragazza di 21 anni. Riteniamo giusta questa sentenza, sia sotto l'aspetto del carcere inflitto che dell'aspetto risarcitorio, anche se nessun importo in denaro potrà mai riparare quanto subito dalla mia assistita, ha commentato l'avvocato Federica Liparoti, che tutela i diritti della vittima, costituitasi parte civile nel processo. I ricordi non si potranno mai cancellare, continua il legale. Dobbiamo soltanto complimentarci con questa ragazza che ha trovato, grazie anche all'aiuto della madre, la forza e il coraggio di denunciare il suo guzzino e di ricominciare a vivere la sua vita, nonostante il passato. Una ragazza che ha dimostrato un carattere eccezionale affrontando il percorso processuale verso quell'uomo e nel frattempo continuando la sua vita studiando e andando anche all'università. Le tecnologie di oggi, decisamente più avanzate rispetto a quelle di qualche anno fa, hanno permesso di arrivare a delle prove tali per poter condannare il magentino di 43 anni. Tutto questo ha consentito di dimostrare che la ragazza ha sempre sostenuto la verità, ha aggiunto il suo avvocato. Ora si attendono le motivazioni della sentenza che verranno depositate nei prossimi giorni e l'appello del condannato. Infatti il suo legale, l'avvocato Roberto Grittini, ritiene che la sentenza emessa dalla quinta sezione penale del Tribunale di Milano non rispecchi la realtà ed è convinto che, al secondo grado, la giustizia farà valere la verità per il suo assistito. Riteniamo questa sentenza ingiusta, ha commentato Grittini. In più occasioni la ragazza ha sostenuto di avere subito violenza dal mio assistito, ma le testimonianze ascoltate durante il processo non hanno confermato nulla. Anzi, i testimoni, secondo l'avvocato Grittini, hanno sostenuto di non avere visto niente di quanto affermato dalla parte offesa. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato prosciolto perché il fatto non sussiste con altre quattro persone dall'accusa di frode in pubblica e forniture per il caso dell'affidamento nell'aprile 2020 da parte di Regione Lombardia di una fornitura poi trasformata in donazione di da circa mezzo milione di euro di 75 mila camici e altri dpi ad ama la società del cognato di Attilio Fontana. Prosciolto perché il fatto non sussiste, si chiudono così le indagini sul caso Camici in cui il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, era rimasto coinvolto con altre quattro persone con l'accusa di frode in pubblica e forniture per l'affidamento nell'aprile del 2020 da parte della Regione di una fornitura di 75 mila camici e altri dispositivi di protezione individuale alla società dama di proprietà del cognato di Fontana, Andrea Dini, operazione da circa mezzo milione di euro che solo in seguito si era trasformata in una donazione quando la notizia era iniziata a trapelare sui media evidenziando il conflitto di interessi del presidente di Regione con la società del cognato in cui la moglie di Fontana detiene anche il 10%. Ed è così che la Gup Chiara Valori ha prosciolto il governatore Lombardo, suo cognato Andrea Dini, l'ex numero uno di Aria, Filippo Bongiovanni, il vicario del segretario generale di Regione Lombardia, Pierattilio Superti e la direttrice acquisti di Aria, Carmen Schweigel, non accogliendo così la richiesta di rinvio a giudizio della Procura ed entro 15 giorni arriveranno le motivazioni della decisione del Gup. A commentare subito la notizia, il leader leghista, Matteo Salvini, dopo mesi di fango e bugie, sono stati restituiti onore e dignità ad Attilio Fontana, alla Lega, alla Regione e a tutti i cittadini lombardi, commenta il capo del Carroccio. Ora aspettiamo le scuse di tutti quegli esponenti di sinistra che per troppo tempo hanno insultato e oltraggiato una persona per bene, la Lega e le istituzioni lombarde. Ma da sinistra ad arrivare non sono certo scuse. Il segretario regionale del Partito Democratico, Vinicio Pelufo, e il capogruppo in Regione, Fabio Pizzul, infatti sono convinti che il proscioglimento di Fontana non ne cancelli l'inadeguatezza. La vicenda giudiziaria si chiude qui, commentano dal PD, non così quella politica, sulla quale rimane il nostro giudizio nettamente negativo che ci aveva portato a presentare in aula la mozione di sfiducia. Anche dai 5 Stelle il messaggio è chiaro, in alcun caso, commenta Nicola Di Marco, capogruppo pentastellato in Regione, la decisione del giudice avrebbe modificato il giudizio politico sull'inadeguatezza mostrata da Fontana e dal centrodestra durante tutto il corso della pandemia e più in generale durante l'intero mandato. Ora anche il centrodestra e i Salvini dovranno tornare a credere nel loro governatore permettendogli di ricandidarsi e misurarsi con il giudizio dei cittadini lombardi ai quali adesso spetta scrivere la sentenza su questa stagione politica. E lo stesso Fontana ha appena finito di parlare in una conferenza stampa esprimendo le sue considerazioni sul procedimento proscioglimento scusate sul cosiddetto caso Camici vi leggo le sue parole esprimo la mia grande gioia e soddisfazione per la sentenza di oggi la mia famiglia ha sofferto per le cattiverie pronunciate in questi anni io ero tranquillo tutte le mie azioni erano improntate alla sicurezza dei cittadini e per combattere il virus ringrazio i cittadini che mi hanno sostenuto oltre al mio partito e ai miei legali. Cambiamo argomento adesso questa mattina Lampi e i City Angels si sono ritrovati alla loggia dei mercanti per ripurirla dal degrado che è la sovrasta negli ultimi tempi. L'ultimo episodio risale allo scorso lunedì quando sulla stele che ricorda Vittorio Foa partigiano e tra i padri fondatori della nostra Repubblica sono comparsi quattro volantini neri con un QR code che rimandava al videoclip di una canzone del rapper emergente Ziu accanto la bruciatura di una sigaretta spenta irrispettosamente proprio sulla frase che ricorda Foa è solo l'ultimo degli atti di vandalismo che hanno come oggetto la loggia dei mercanti e più nello specifico il monumento alla resistenza progettato da Cini Boeri un luogo che nei weekend specialmente a partire dal tardo pomeriggio diventa punto di ritrovo per tanti gruppi di giovani più o meno rispettosi del valore simbolico del memoriale un monumento donato alla città dall'Ampi l'associazione nazionale dei partigiani italiani che venerdì mattina si è ritrovata proprio sotto le volte della loggia insieme ai City Angels per un'azione di pulitura e ripristino delle lastre di vetro e delle sedute in marmo ma la misura potrebbe essere colma Roberto Cenati presidente provinciale dell'Ampi attacca direttamente il comune di Milano ormai è da 11 anni che noi chiediamo le stesse cose al comune di Milano cioè potenziamento dell'illuminazione che è un deterrente contro il degrado installazione di telecamere di videosorveglianza e sistemazione di cartelli davanti alla loggia che spieghino ai cittadini dove si trovano l'importanza di questo luogo che è un monumento dedicato alla resistenza in tutta la sua complessità queste tre cose non sono state fatte una soluzione per quanto radicale potrebbe essere quella di contingentare gli accessi alla loggia e al memoriale noi siamo arrivati a meno io sono arrivato a questa conclusione che forse dovremmo si dovrebbe prevedere un accesso contingentato alla loggia a chi è interessato a visitare questo luogo di memoria e di storia e dedicarlo che deve essere poi dedicato a iniziative di carattere culturale di carattere storico e musicale facendo in questo modo unendo le misure del comune a questa accortezza io credo che si potrebbe porre un rimedio a questi atti di vandalismo che continuano a imperversare all'interno della loggia una proposta che il sindaco Giuseppe Sala commenta così bisogna capire se Lampi e chi è protagonista della loggia ha una disponibilità a trovare una forma per cui un po' la si chiude se no diventa veramente difficile non è che noi possiamo mettere lì in continuazione persone dovremmo metterle in tutta la città per cui stiamo ragionando e probabilmente proporremo una soluzione che permetta un po' di trovare qualche formula di protezione se no diventa difficile Ritorniamo su una notizia di cui vi avevamo dato conto qualche giorno fa i quattro ragazzi rimasti uccisi dal terribile incidente sull'autostrada 4 direzione Venezia erano tutti di Marcallo con Casone cordoglio da parte della comunità pakistana della città vivevano a Marcallo con Casone i morti dell'incidente avvenuto mercoledì sull'autostrada A4 in direzione Venezia tra i caselli di Marcallo Mesero e Arluno si chiamavano Raya Abid Raya Farid questi due erano cugini e poi Kamar But e Amir Shahzadi sono i quattro pakistani che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto all'altezza di Marcallo lungo l'autostrada A4 nel tratto fra Marcallo Mesero e Arluno profondo cordoglio anche nella folta comunità pakistana che vive nel magentino uno di loro Kamar But era originario di Jalal Purjatan e in molti lo conoscevano perché provenienti dalla stessa regione del Pakistan una tragedia pazzesca commenta quindi la comunità pakistana del magentino la nostra vicinanza va subito alle famiglie per la scomparsa di questi nostri fratelli sulla dinamica dell'incidente si resta a quanto fatto sapere dalla polizia stradale dopo i rilievi e cioè che l'incidente sarebbe stato causato dall'auto perché questa avrebbe tamponato un tir e poi dopo che l'automobilista ha perso il controllo della vettura finendo sulla terza corsia l'auto è stata centrata dal camioncino da cui è scaturito lo scontro mortale e torniamo a Milano dove il quartiere Isola metterà al bando le auto di sera nel quartiere di Milano infatti verrà istituita una ZTL nel quadrilatro delimitato da via Pepe via Farini via Stelvio e via Lezzara rispetto a quanto era inizialmente previsto saranno escluse dalla zona a traffico limitato via Farini e il cavalcavia bussa come da volere dal municipio e inoltre che la delibera sulla ZTL è stata adottata assumendo proprio la stessa richiesta del municipio interessato lo ha detto in consiglio comunale Arianna Censi l'assessore alla mobilità intervenendo a nome della giunta sulla mozione bocciata dall'aula e presentata dalla Lega che chiedeva di limitare alla sola via Borsieri la futura zona a traffico limitato non solo ci saranno più controlli della polizia locale per contrastare la mala movida e un piano di riorganizzazione del piano parcheggi intanto sempre in consiglio comunale è stata approvata una mozione per la messa a disposizione di una quota di immobili a canone agevolato per i medici di base il comune di Milano metterà a disposizione immobili di sua proprietà selezionati insieme ad ATS all'interno del suo patrimonio di edilizia residenziale pubblica per incentivare e diffondere la presenza di medici di base nelle aree della città in cui si registra una loro carenza a stabilirlo è stata una mozione presentata dal consigliere di Milano in salute Marco Fumagalli e approvata dal consiglio comunale giovedì sera con 35 voti a favore e un solo astenuto il tema non è solo milanese ma lombardo la regione ha infatti aperto poche settimane fa un bando per ricercare oltre 1100 nuovi medici per il territorio il documento approvato dall'aula di Palazzo Marino è un modo per agevolare soprattutto i giovani che stanno facendo il corso di formazione per medici di medicina generale spiega Fumagalli che avranno in questo modo la possibilità di avviare una loro attività cosa non così semplice se ogni mese si guadagnano 5 euro a paziente lordi e il limite imposto è di 650 assistiti anche per questo nella mozione si chiede al comune di trovare dei luoghi che siano adatti alle forme aggregative da un lato perché questo garantisce ai medici che si uniscono in un ambulatorio un introito ulteriore di 400 euro e dall'altro perché in questo modo si compone un servizio integrato ancora più efficace sul territorio soddisfatto anche il leghista Samuele Piscina che ha chiesto ed ottenuto la modifica del testo per quanto riguarda il focus sulle aree dove c'è carenza anche se l'esponente del carroccio non risparmia critiche a Palazzo Marino finalmente il Consiglio Comunale di Milano mette alle strette la giunta sul tema dei medici di base medici di base per il quale il comune si è lamentato essendo costato si è lamentato tanto nei precedenti mesi diffondendo anche delle notizie false nei confronti di Regione Lombardia ma mai nulla ha fatto per incentivare quella che è la risposta a bandi perché di bandi si tratta sciopero dei mezzi in arrivo a Milano tra domenica e lunedì andrà infatti in scena un'agitazione del personale Trenord indetta dalle RSU 1A e 1B lo sciopero si legge in una nota di Trenord sarà dalle ore 3 di domenica 15 maggio alle ore 2 di lunedì 16 maggio l'agitazione sindacale potrà generare ripercussioni al servizio regionale suburbano e al servizio aeroportuale poiché lo sciopero si terrà in una giornata festiva non sono previste fasce orarie di garanzia lo hanno sottolineato da Trenord rimarcando che è sconsigliato mettersi in viaggio durante l'intera giornata di domenica 15 maggio adesso andiamo a Corsico dove verrà finanziato appunto con 5 milioni di euro il rifacimento dei tre parchi appunto di Corsico quelli di Giorgella Cabassine e Resistenza per un totale complessivo di 7 milioni con i fondi che poi aggiungerà il consiglio comunale riceverà 5 milioni di euro dal ministero dello sviluppo economico il progetto di riqualificazione dei parchi Giorgella Cabassina e Resistenza a Corsico l'investimento complessivo sarà di circa 7 milioni di euro con le risorse aggiunte poi dall'amministrazione comunale si tratta del finanziamento più grande mai ottenuto a Corsico negli ultimi anni spiega il sindaco Stefano Ventura frutto di tanto lavoro degli uffici e di Parco Nord che ringrazio e di una chiara visione politica di riqualificazione e investimento sulle aree verdi urbane il provvedimento è stato ora pubblicato in gazzetta ufficiale e viene quindi confermato il finanziamento che il comune di Corsico tramite città metropolitana ha ottenuto per questo importante progetto l'anno scorso in occasione dell'inizio dei lavori di riforestazione presso il parco Travaglia spiega invece l'assessore all'ambiente Chiara Silvestrini avevamo espresso la volontà di intervenire anche nei restanti parchi urbani grazie alla collaborazione con il Parco Nord abbiamo partecipato a un bando del PNRR e ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro un concreto passo nella riprogettazione di tre parchi urbani per ripensarne le funzioni valorizzarne il patrimonio ambientale e renderli più fruibili per la cittadinanza con una spesa di circa 3 milioni e 700 mila euro si interverrà invece sul parco Giorgella comprendendo anche l'area di piazza Giovanni XXIII il parcheggio e il sagrato della chiesa i lavori permetteranno di creare una nuova piazza pedonale alberata e fruibile con giochi d'acqua e connessioni ciclopedonali tutte in sicurezza verrà anche realizzato un parcheggio alberato con aiuole e una viabilità veicolare indipendente da quella dei pedoni e delle biciclette al parco tra i vari interventi verranno posati anche nuovi arredi dalle panchine ai cestini alla segnaletica verticale e formate nuove aree giochi per i bambini per il fitness e per poter esercitare moltissimi sport al parco Cabassina invece con un impegno di quasi due milioni di euro un milione settecentocinquanta cinque mila per la precisione si procederà soprattutto a valorizzare l'area del fontanile visconti oltre al ripristino delle sponde del lago alla formazione di un'area multi sport di una fitness e di un'altra dedicata ai giochi dei bambini al parco della resistenza e infine l'intervento si propone di valorizzare le presenze ambientali con opere di manutenzione del verde esistente e di riorganizzare gli spazi attrezzati interni il progetto consentirà anche di connetterlo al sistema dei parchi dell'area sud della città e di incrementarne il valore ecologico e paesaggistico anche a livello sovracomunale l'intervento per il parco della resistenza è di circa 1.550.000 euro Torniamo a Milano e torniamo a parlarvi del caso del nuovo stadio di San Siro perché il dossier che servirà per il dibattito pubblico sulla realizzazione appunto del nuovo stadio non arriverà prima della metà di giugno e sull'ipotesi di un nuovo stadio che potrebbe nascere a Sesto San Giovanni l'Interland milanese e la città di Milano si dividono Era atteso per fine aprile al massimo agli inizi di maggio ma il dossier di Milano e Inter che costituirà la base per il dibattito pubblico sul futuro del Meazza non arriverà prima della metà di giugno Il motivo è presto detto prima di presentare i documenti necessari le squadre intendono incontrare il coordinatore del dibattito in modo da integrare il dossier in base alle sue richieste Peccato che il suddetto coordinatore che dovrebbe essere selezionato dal comune a giorni non potrà entrare in carica fino a che non verrà approvato il bilancio preventivo la cui scadenza è fissata al 31 di maggio L'impressione dunque è che ancora una volta si sia arrivati a una situazione di stallo e che nessuno abbia particolare interesse a spingere troppo sull'acceleratore anche perché da un lato si vuole vedere come finirà il campionato con i due club che si stanno giocando lo scudetto ma soprattutto dall'altro se andrà in porto la trattativa per la cessione del Milan e se il nuovo acquirente confermerà la volontà di condividere uno stadio insieme all'Inter o se ne voglia uno tutto per sé il tutto mentre sullo sfondo resta l'ipotesi di Sesto San Giovanni proprio su questo tema Ospo l'osservatorio socio-politico ha presentato un sondaggio in cui ha chiesto ai milanesi e agli abitanti della città metropolitana se preferiscono che il nuovo stadio sorga nell'area di San Siro o a Sesto e se non sorprendono più di tanto le risposte degli abitanti dell'Interland con una netta preferenza per il trasloco a Sesto quelle dei milanesi non sono così univo che nell'altro senso il 54% degli intervistati preferirebbe che il nuovo impianto lasciasse la città anche se va fatta una dovuta precisazione il campione si divide in modo netto a seconda della residenza chi vive in un'area più vicina a San Siro preferisce che il futuro di Inter e Milan si continui a giocare dove oggi sorge il meazza Alvia oggi a Milano in e out il primo festival sull'autismo in Italia ha preso il via venerdì mattina a Milano alla fabbrica del vapore il primo festival sull'autismo mai organizzato in Italia una tre giorni dedicata al tema dell'inclusione sociale e al lavoro delle persone affette da questa patologia ad aprire in e out festival la presidente del senato Elisabetta Casellati che ha evidenziato come la manifestazione sia solo l'ultima tappa di un viaggio importante verso l'inclusione delle persone con autismo nella vita sociale e nel mondo del lavoro e questi ragazzi che cosa ci hanno insegnato che attraverso il lavoro si realizza davvero l'inclusione sociale quindi è un messaggio che hanno lanciato oggi a tutti anche attraverso questo festival perché chiaramente le istituzioni devono partecipare a questo progetto per far sì che anche le carenze di carattere scolastico per il personale specializzato di sostegno per quello che riguarda anche gli ospedali perché possono esserci dei trattamenti anche personalizzati e si diano da fare e collaborino in rete perché questi ragazzi davvero possono trovare attraverso il lavoro un loro successo personale una riabilitazione e un inserimento sociale a partecipare all'In & Out Festival che nasce da un'idea della fondazione inoltre anche il sindaco di Milano Beppe Sala tutti conoscono una parola che è autismo pochi conoscono cosa vuol dire quali sono le problematiche ma soprattutto tutti non arrivano a pensare la maggior parte non arriva a pensare che questi ragazzi possono trovare uno spazio nel mondo del lavoro il comune vuol dare il buon esempio abbiamo fatto delle cose non le abbiamo fatto di più però non è la cura per così dire come mi è stato spiegato da persone che vivono queste problematiche da tanto tempo la cura è attraverso l'inserimento nella socialità che ci riguarda tutti e per tre giorni saranno presenti anche in gran numero le realtà impegnate nel sociale tra le più famose la Out Academy l'accademia formativa di Pizza Out la pizzeria gestita da ragazzi autistici l'inclusione lavorativa è fondamentale noi abbiamo visto succedere cose incredibili ragazzi che motivati dal lavoro hanno incominciato a prendere per la prima volta i mezzi pubblici a viaggiare da soli ragazzi che non parlavano e hanno iniziato a parlare a relazionarsi con le altre persone ragazzi timidi introversi che non uscivano di casa che hanno incominciato a uscire e prendono ogni giorno centinaia di comande pensate che da Pizza Out chi prenota oggi trova posto alla fine di luglio la pizza è buonissima e i ragazzi sono bravissimi presente all'evento anche la vicepresidente assessora al welfare di regione Lombardia Letizia Moratti che ha presentato il nuovo piano per l'autismo di regione Lombardia è un momento importante è un momento che segue la redazione da parte di regione Lombardia del primo piano sull'autismo un piano redatto con uniti per l'autismo quindi con un'associazione che raggruppa 50 associazioni che coinvolge quindi i familiari e che si concentra su un progetto di vita personalizzato che guarda non solo alla cura e all'assistenza ma guarda anche all'inserimento lavorativo all'autonomia abitativa e alle relazioni sociali Con questo è tutto io vi lascio le previsioni del meteo e vi ricordo l'appuntamento questa sera con le regole dello star bene con Cristina Colli tra poco l'edizione Pavia io vi auguro una buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.